Buffy l'ammazza vampiri stagione 11 a fumetti edita come sempre da Saldapress e disponibile in fumetteria e in libreria ebbene sì ragazzi finalmente ne parlo con voi Wabalabadabdabe bentornati su Nomomammazzo bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica dedicata alla nostra ammazzavampiri preferita Buffy che finalmente da un paio di stagioni è tornata nelle fumetterie e nelle librerie di tutta Italia grazie a Saldapress dopo che da parecchi anni non venivano pubblicate le ultime stagioni vi ricordo che la stagione canonica se così vogliamo dire di Buffy si è conclusa con la serie televisiva che conta fino alla settima stagione ma poi è andata avanti grazie ai fumetti dello stesso Joss Whedon con la stagione 8 e 9 che ai tempi erano editi in Italia grazie se non sbaglio alle edizioni BD che però avevano appunto smesso di pubblicarla con la stagione 9 Saldapress ha ripreso in mano il progetto dopo cioè con scusate la stagione 10 la stagione 10 era composta da tre tomi separati mentre sono ad annunciarvi che la stagione 11 è composta da un unico tomo questo perché anche la serie originale è molto più corta rispetto alla stagione 10 vi mostro anche proprio fisicamente la differenza questa è la stagione 10 questa è la stagione 11 proprio per farvi vedere quanto è più corta rispetto alla serie originale e mentre nella serie 10 c'è sempre uno spin off che tra l'altro in Italia non è pubblicato questa cosa io ancora non la riesco a comprendere che sarebbe la stagione 2 tra virgolette di Angel e Fate quindi sequel della stagione 1 di Angel e Fate che era in contemporanea con la stagione 9 di Buffy la stagione invece 11 di Buffy ha uno spin off che però non si chiama più Angel e Fate ma si chiama semplicemente Angel stagione 11 anch'esso non pubblicato in Italia a discapito di questa brevità di questa stagione mi sento di dire qualità anziché qualità ragazzi perché la stagione 10 non è un segreto guardate i miei video forse sono stato anche fin troppo buono ma adesso che ho letto la stagione 11 posso dire posso affermare che la stagione 10 mi ha fatto veramente cagare e ha fatto danni irreparabili che hanno risolto con questa stagione 11 anzi risolto dovrei usarle virgolette anche qua dimenticandosele comunque non parlandone proprio più come se si sono proprio accorti delle cacche che hanno pestato durante la narrazione appunto della stagione 10 da cui non riuscivano più a uscire ma con questo voglio tornarci alla fine adesso parliamo invece della macro trama della stagione 11 se ancora non lo avete fatto vi chiedo di iscrivervi a questo canale di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che riguardano Buffy che riguardano gli altri argomenti che ve frega di condividere il video con tutte le persone che hanno un paletto nel cassetto del comodino e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questa stagione della serie in generale sapevate che c'erano i fumetti non lo sapevate scrivetemelo qua sotto vi ho fatto venire voglia di leggere questa stagione oppure no scrivetemi qua sotto nei commenti quello che volete scrivetemi il vostro personaggio preferito un saluto non lo so fate voi seguitemi anche sugli altri miei social tra cui instagram twitch e tiktok ci sono anche su facebook volendo ma pubblico le stesse cose che pubblico su instagram quindi io dico sempre questi tre ma comunque di base se c'è un social io ci sono comunque ho bloccato il nome per il copyright ringrazio come sempre Buffy italian universe pagina instagram che vi consiglio di seguire se siete fan di Buffy che mi ha aiutato anche in questo caso a muovermi in questa stagione per farmi capire appunto che la sua lunghezza rispetto alla stagione 10 la sua lunghezza rispetto alla pubblicazione americana e a quello che arriverà poi ovvero alla stagione 12 che sarà anche l'ultima la stagione 11 sembra iniziare con gli stessi difetti della stagione 10 ovvero si apre con uno scontro dove ci sono Buffy e Spike che ammazzano un mostro e poi subito dopo averlo fatto si mettono a parlare come in una serie tv di adolescenti ma non Buffy una serie tv di adolescenti di quelle dove il focus è semplicemente l'amore adolescenziale dei cazzi loro della loro relazione arriva anche il poliziotto questo non mi ricordo il nome Dowling che aveva sembrava avesse un ruolo importante nella stagione 9 poi è stato sempre più lasciato perdere nella stagione successiva e qui ancora di più poi vedremo che invece di chiedergli non so cose di polizia si mette a chiacchierare con Spike dei suoi sentimenti verso Buffy cioè va bene tutto ma davvero non ha senso non ha lo scrittore che voglio nominare Christos Cage non ha davvero lo stesso piglio che aveva Joss Whedon nel mescolare la battaglia lo scontro e la metafora di quello che le loro vite stavano vivendo in quel momento quindi se la loro vita la loro relazione aveva un problema un inciampo lo si vedeva in una metafora che si incontrava durante l'episodio qua invece non c'è nulla di tutto ciò c'è la parte mostro e c'è la parte sentimentale l'autore non riesce assolutamente bene a mescolarlo all'inizio però devo dire che l'assenza mi dispiace dirlo di Nicholas Brandon alla sceneggiatura quantomeno si fa sentire in positivo perché se nella stagione 10 era chiaro che Nicholas Brandon avesse scritto tutte le parti riguardanti Xander e Anya che erano davvero superflui tranne per il finale quantomeno la sua assenza riduce tantissimo tutte queste queste dispersioni che mi hanno mi hanno davvero fatto annoiare nella stagione 10 se non fosse che comunque tutta la parte in cui lui e Dawn erano in un'altra dimensione ora quella parte non so chi l'ha scritta è stata una delle parti più carine che io abbia letto nella stagione 10 nonostante questo sentimento o risentimento che io ho provato nelle prime 16 pagine poi c'è un evento scatenante anche qui un evento scatenante per nulla sottile cioè proprio siamo a livelli della fiaba un drago enorme arriva a San Francisco dove sono ambientate le stagioni 9, 10 e 11 di Buffy l'ammazzavampiri e distrugge la città quindi un evento proprio eclatante che non si fa che non va per il sottile questo evento che possiamo un attimino accomunare se mi passate il termine il paragone è molto forte ma adesso ci arrivo a quello che potrebbe essere successo a New York l'11 settembre 2001 ovvero una sorta di atto terroristico in questo caso magico perché c'è questo drago che siccome è una creatura fantastica allora deve essere non può essere considerato un evento naturale è qualcuno che ce l'ha mandato sto drago quindi è un atto terroristico insomma a seguito di un atto così sconvolgente ad opera della magia la popolazione normale si spaventa e si inizia a creare un clima di di ostilità di paura di odio verso il diverso nel 2001 era il musulmano poiché islamico e quindi allora è quindi terrorista no? c'era questa assonanza orrenda generata dalla paura che poi ha generato l'odio che ancora oggi stiamo facendo fatica a scrollarci di dosso ecco questa cosa è narrata con l'espediente del drago e l'espediente del diverso in quanto portatore di magia ecco in questo la stagione 11 sale notevolmente di livello rispetto alla stagione 10 perché finalmente torna a essere la Buffy che ricordo io la Buffy del telefilm la Buffy che parla di un un argomento anche molto terreno molto attuale purtroppo sempre attuale e lo trasforma con una metafora in qualcosa di magico di fantastico di horror che possiamo magari deglutire meglio e capire meglio anche altri punti di vista per quello che poi serve quando spegniamo la tele o quando chiudiamo il fumetto in questo caso quello che ci può servire poi nella vita reale questa è la Buffy che amo io la Buffy che comunque ti dà un insegnamento mentre Buffy come personaggio era anche abbastanza americano nel senso anche più negativo del termine vedeva o bianco o nero era molto non dico fascista però era abbastanza era molto duro come personaggio rispetto a Angel lo spin off che invece ci mostrava tutte le scale di grigi che c'erano nel mondo nel sottobosco demoniaco questa è una Buffy un po' più cresciuta e lo dice apertamente perché appunto ve l'ho detto non va per il sottile Christos Cage rispetto a Whedon è una Buffy più cresciuta che ci dice dice allo spettatore dice alla persona con cui interagisce che ha imparato a capire che non necessariamente demone significa malvagio ci sono dei demoni che hanno dei ruoli demoniaci minori che non fanno male a nessuno e che fondamentalmente se non fanno del male agli altri perché non lasciarli in pace sempre in un clima di non ve la mandiamo certo a dire c'è un escalation appunto di paura e odio che va a generare da parte del governo una sorta di misure restrittive per persone che hanno la magia si cita palesemente la civil war della marvel dove tutte le persone con superpoteri dovevano registrarsi e c'è anche questa parte all'inizio del fumetto della stagione ma poi si va anche ulteriormente a peggiorare creando dei veri e propri campi non dico campi di concentramento campi di lavoro perché non siamo a questi livelli ma sono come dei delle riserve indiane in un certo senso dove ficcano dentro tutte le persone che possiedono qualità magiche ci sono anche un paio di personaggi interessanti come una delle tantissime cacciatrici potenziali che sono diventate cacciatrici in carica dopo l'incantesimo di willow della settima stagione c'è questa vedete questa ragazza qui che anche lei è bionda come buffy è nettalmente più alta è più muscolosa è più forte è come se fosse una buffy 2.0 hanno proprio scelto benissimo il character design di questo personaggio perché rappresenta tutta quella parte fascista di buffy che ho citato all'inizio e mi piace vedere lo scontro da questi due personaggi sarei quasi curioso di sapere se hanno pensato a qualche attrice se qualcuno ha fatto un fan casting per questo personaggio che ho apprezzato davvero tanto non mi dispiacerebbe anche vederlo in futuro sono sincero un po' meno invece ho apprezzato la controparte amorosa di Willow che anche in questa stagione ha una nuova ragazza ecco a me non piace troppo questa cosa che nei fumetti hanno voluto mettere quasi involontariamente per carità ma a ogni stagione Willow ha una ragazza diversa come se deve per forza avere qualcuno cioè non può avere qualcuno per più di una stagione o non può stare single non è che perché è omosessuale dovete mostrarcelo ogni volta con una nuova fidanzata anche qui sta con una ragazza quando è nel campo però questa ragazza è fidanzata quando questa ragazza esce dal campo torna con la sua vecchia fidanzata Willow rimane con le pive nel sacco carina come trama però francamente vorrei vedere Willow finalmente felice ne ha passate tante l'abbiamo vista tanti anni con Tara Tara non aveva sta grossa personalità a me piaceva tantissimo Willow con Kennedy mi è dispiaciuto molto che nei fumetti l'hanno fatta lasciare e l'hanno fatta stare insieme ad altre persone io mi auguro che nella stagione 12 non lo so a questo punto io spero che ritorni con Kennedy perché quantomeno è una figura forte che noi conosciamo e che dal momento che noi la conosciamo è come se dessimo più importanza a una storia che potrà nascere nella stagione 12 io lo spero perché mi dispiace davvero vedere Willow in queste storie un po' così ovviamente dato che si tratta di il nemico fondamentalmente vero e proprio non c'è non c'è un nemico forte dietro ci sono ci sono dei villain però non c'è un nemico che racchiude in sé in un'unica persona forza malvagità eccetera c'è il nemico governo e quindi non si manca di citare l'iniziativa della stagione 4 c'è anche una citazione ad Adam in una certa in una particolare scena c'è il nemico forte che è la cacciatrice che ho citato prima e poi c'è il nemico dietro a tutto questo che non vi svelo però appunto sono delle entità separate diciamo però nonostante non necessariamente deve esserci sempre un unico nemico della stagione come nelle stagioni televisive mi è comunque piaciuta la gestione questa serie mi è dispiaciuto che sia un po' più corta delle altre ma ripeto se deve essere lunga e fare schifo preferisco che si guardi alla qualità piuttosto che alla quantità ciò nonostante ci sono tantissime cose su cui ho chiuso non un occhio ma due occhi proprio in favore di quello che la trama voleva trattare perché va bene però davvero si sono dimenticati tante cagate che hanno fatto nella stagione 10 che non hanno più nominato e hanno fatto anche alcuni piccoli proprio errori che davvero non li puoi fare dopo cazzo dopo 11 stagioni e vado ad elencarli uno innanzitutto spike che si muove liberamente alla luce del sole all'alba si muove tranquillamente quando c'è il sole si limita ad andare in giro con il suo cappotto di pelle e un cappuccio ma come ha fatto a non pensarci prima come hanno fatto a non pensarci prima tutti i vampiri cazzo dovevate mettere un cappuccio invece ci tenevate a essere fighi ma è assurdo un cappuccio una salvietta sulla testa cioè lo abbiamo già visto anche nella stagione 4 di Buffy che spike con una coperta molto pesante una coperta da pompiere quindi quella che tiene il fuoco comunque fa fumo se si muove per brevi tratti quindi dal tombino dalle fogne alla casa di Giles fa quasi fumo sta per andare a fuoco qua niente lo fanno vedere tranquillamente che cammina libero con un cappuccio e con dei guanti raga non ve la perdono cioè ho fatto finta di niente ma poi tra l'altro non ha assolutamente senso che si muova di giorno ambientatela di notte sta cazzo di scena che senso aveva e questa è una cosa la seconda cosa tutto quello che c'è stato nella stagione 10 la stagione 10 vi ricordo che il libro Vampyr si è scoperto essere una sorta di libro magico di libro delle ombre stile streghe dove quello che era scritto era la nuova legge magica e la stagione era finita con un nuovo consiglio che si sarebbe occupato di questo libro consiglio dove avrebbe fatto parte anche Buffy e anche Spike e anche Riley ora tutta questa cosa non è assolutamente toccata nella stagione 11 ora io non so se dipende dalla pubblicazione italiana mi rimetto a chi ne sa più di me scrivetemelo qua sotto nei commenti non so se c'è stato un one shot in cui hanno spiegato in cui hanno aggiustato il tiro su questa cosa per non parlarne più nella stagione 11 sta di fatto che in quello che io ho tra le mani non c'è nessun riferimento è tutto dimenticato è vero che era uno schifo e quindi meglio così però narrativamente datemi nominatelo nominate il consiglio nella trama della stagione 11 il consiglio che può fare qualcosa in merito no non viene assolutamente toccato giustamente per non dare troppo potere ai protagonisti e quindi a rendere tutto troppo facile perché il consiglio poteva tranquillamente scrivere che quel drago non c'era mai stato e si risolveva la stagione però spiegatemi narrativamente perché non c'è più questo consiglio comunque non viene nemmeno nominato spiegatemelo quindi questa cosa davvero mi ha dato un fastidio in mane anche i vari sì sono citati i nuovi vampiri quelli che si trasformano in tutti in tutti i vari animali come Dracula vengono mostrati quindi ok ci sono ancora però non c'è il minimo accenno a tutta quella che era la macro trama che comunque era incasinatissima della stagione 10 quindi sono contento dal punto di vista extra narrativo ma dal punto di vista narrativo me la devi dare una spiegazione se no per me questa stagione è tronca non ha senso inoltre non c'è la stessa capacità di Whedon di gestire i personaggi di conseguenza cosa fa in questa undicesima stagione cage rispetto a Whedon semplicemente li elimina vediamo Andrew che è un personaggio che a me non è mai piaciuto lo sapete però è stato trattato a mio parere davvero male nella decima stagione nell'undicesima come si risolve l'arco narrativo di Andrew semplicemente non ha più nulla da dire perché gliel'hanno chiuso male nella stagione 10 lo tolgono di scena Andrew se ne va in Italia in Europa quel cavolo che è la stessa cosa vale per i personaggi che restano parte della storia ma in realtà sono messi in disparte ovvero Xander Dawn le persone senza poteri che non quindi non vengono isolate nel campo per persone magiche hanno una cioè non hanno una side story in realtà sono semplicemente relegati fuori e si limitano a comunicare con le persone che sono dentro che sono semplicemente Spike Buffy e Willow e con questa gestione di tre personaggi chiaramente la narrazione viene meglio grazie al cazzo però tutti i personaggi esterni sono appunto esterni Jice che vi ricordo è tornato bambino anche qua viene eliminato dalla narrazione perché va sotto copertura in una scuola ma non lo vediamo nemmeno anzi presumo ci sarà un one shot su Jice non lo so però non è parte di questa narrazione quando in realtà magari avrebbe potuto contribuire alla trama con uno sceneggiatore migliore Dulce Sin Fun una cosa che davvero non ho sopportato la serie è ambientata nel presente fanno i riferimenti ai social network fanno i riferimenti o se non sbaglio a TikTok o Instagram comunque fanno dei riferimenti a delle cose che non dovrebbero nemmeno esistere perché è vero che se siamo nell'ambito dei fumetti non importa che sia iniziato nel 97 e adesso siamo nel 2022 il tempo scorre diversamente lo so lo so ma io ragiono da persona che ha seguito il media di partenza il media di partenza è il media televisivo la serie televisiva di conseguenza se il prodotto è partito nel 1996 97 e siamo all'undicesima stagione io mi aspetto considerando che Buffy è scandita in anni mi aspetto che siamo nel 2007 2008 circa non di più quindi non ci sono ancora i social network non ci sono gli smartphone non c'è nulla non c'è stata ancora la rivoluzione informatica la rivoluzione dei social network come io amo chiamarla che è partita più o meno nel 2011 e questa cosa mi ha dato davvero fastidio è una cosa minima me ne rendo conto però anche lì la non bravura di gestire queste cose magari è voluto perché appunto come ho detto prima nei fumetti il tempo scorre diversamente ma dal momento che stai facendo un reboot di Buffy inventato nei giorni nostri perché ambienti la stagione 11 della serie degli anni 90 ai giorni nostri non ha senso ok so cazzate però ci tengo ciò nonostante appunto il messaggio interno è bello semplice perché comunque è tagliato proprio con l'accetta non ci sono più le finezze guidoniane delle prime stagioni ma mi accontento va bene così non è non mi aspettavo nulla di più da questa stagione sono stato molto contento avrei preferito che anche la stagione 10 fosse stata così così non è stato vedremo come sarà la stagione 11 la stagione 12 che sarà l'ultima che se non sbaglio sarà anche più corta e che non avrà spin off perché anche Angel si riunirà alla serie madre quindi vedremo io comunque anche qui faccio un ultimo appello a salda press di pubblicare gli spin off Angel e Fate stagione 2 Angel stagione 11 anche in un unico volume chi se ne frega però fatelo per completezza prima della stagione 12 di Buffy sarebbe carino io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video che come sempre è lunghissimo ma tanto lo so che è per gli appassionati e quindi è così e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti